Ciao ragazze, allora un altro video di seguito. Per quanto riguarda il catalogo Campagna 7, quindi il mese di giugno-luglio, ci sono un sacco di vendite straordinarie, offerte imperdibili, insomma. Tante offerte. Allora, innanzitutto inizia il programma Fidelità. Questa è la prima tappa, perché siamo in Campagna 7, quindi, per andare a prenderci le nostre quattro tassine con cucchiaini, escluso i vassoi. Allora, prima tappa, bisogna acquistare 20 euro da questo catalogo, più la matita con tornocchi glimmer stick di Amund, a soli 2,99, nelle quattro tonalità, cioè viola, verde, nera e grigio. Allora, iniziamo, c'è un set. Allora, set bellezza, pagina 4,5. Quattro prodotti a soli 9,90. Allora, comprende la Monsensis Citrus Bars, gel doccia, però potete acquistare anche separatamente a pezzi di 3,95, la Naturals, fragola guava, una fragranza aspera per il corpo, 5,50, il mascara super extended 10,95 in tonalità black e la Monsensis Citrus Bars in un litro tonificante e idrotante 3,50. Se lo volete singolarmente. Se li volete tutti insieme, costano 9,90. Non perdete questa opportunità. Ci sono un bel po' di set. Poi ci sono gli shampoo dell'Advanced Technique da 400 ml a soli 3,50. infatti ne ho segnato uno, due, tre e quattro. Ne proverò quattro. A 3,50 da 400. Poi ci sono sconti fino a 45% sulle terre. Poi fragranze sia uomo che donna scontate. Poi set furblanca, solo i 15,95, tutti e quattro. Quindi Deurolon, Creme Profumata, Profumo e Deodorante. Poi c'è il 40% sui solari, 55% sui prodotti da corpo. Poi hanno messo di nuovo il Reggisani The One, 8,90. Il set Canotte Sleep Midsummer, 14,90. E questo bellissimo anello che è uscito, 19,90. Poi ci sono le creme della New, da 50 ml. Sono tutte da giorno, ok? La meno cara costa 12,90. La più cara 15,90. Quindi fatevi un po' voi. Quelle da notte stessa cosa, la minima costa già 12,90. Un massimo di 15,90. Quindi i prezzi di sieli invece vanno da 22,90 a 24,90. Contorno occhi e detergenti a partire da 8,90 per un massimo di 15,90. Tra contorno occhi e detergenti. Poi della New, i vari trattamenti che vanno da un minimo di 9,90 a un massimo di 19,90. Quindi hanno messo di nuovo l'ombretto, quello con la base. Poi è uscito il nuovo smalto, sopra smalterigli a 105,95. Vedete come fanno le vostre unghie. A solo i 5,95. Poi c'è la mascara, i super shock ombretto, i rossetti perfetti e mega effect a soli 6,95. Poi i prodotti a partire da 4,95, che è tipo 4,95 il temperino. Poi i prezzi a partire da 5,95, 5,95. Non riesco proprio... Fa partire da 4,50, 3,50, 7,95, 7,95. Fondotinta, calming effect a soli 8,95. Vabbè non è un'idea strapitosa, neanche un prezzo, perché di solito è stato sempre a questo prezzo. Poi, vabbè i saldi dell'extra lasting. Poi, dietro anti-spresso, le 3,95, sia uomo che donna. Ah, questo è bellissimo. Qua avete la pagina profumata degli secreti fantasifisti, che è bellissimo. Qua, per questo io me lo sto prendendo, perché mi piace un casino. Ed è l'incandescent, non so se avete presente, la boccettina rotonda. Questa volta l'hanno fatto da 50 ml, è diverso. A un prezzo strepitoso, 10,95. Bellissima, bella, bella, bella. Infatti, ora prenderò. Pagina profumata per i Faraway esotic. Pagina profumata per i 0,15 da uomo, 9,95. I profumi questi Today, Tomorrow, eccetera, a 19,90. I talkie a 2 ore e 50, l'uno. Sono quelli due disponibili. Poi sono usciti questi, che sono i mini-gate della Solution. 5 ore e 90, l'uno, veramente scontati. Poi è uscito di nuovo questo. Ve lo ricordate che sono i Solution Pibes, cioè praticamente il sistema di pulizia elettronico, con tamponcini, 20 ore e 90, e in più ci sono anche i tamponcini di scorta e detergenti, che costano 6,50 euro. Sconti sulle creme. Offerta. Tre partite della Clear Skin, la solita di 50. Altri riprodotti. Ah, sono completati, cioè praticamente, l'offerta parte da pagina 92 a 95. Quindi voi potete scegliere da pagina 92, che è questa, cioè che ne so che piace questo, poi nell'altra pagina più su un'altra, ecco, a soli 13,50 euro. Qua ci sono delle creme per il viso a 3,50 euro, della Monchière. Sconti sui Solari, ma questi tanti sconti non ne vedo, poi sono usciti questi, che già ve ne avevo parlato lì, sull'anteprima. Catalogo, le Giseni. Ah, ecco qua l'offerta che vi parlavo prima, nell'anteprima. C'erano questi bracciali che venivano, cioè loro li devono mettere a 1,95 euro, ma sicuramente a 1,95 euro ci sarebbe fatto, ci sarebbe stata la ruba, completamente. Io me ne ho presi tutte e quattro, e arriveranno nel prossimo ordine. Allora, vi spiego un po'. Acquistando un bracciale, un altro bracciale a scelta, incluso nel prezzo, a soli 7,90 euro. Sono carini però, sono tipo tessuta, hanno la pietrina. Poi bellissima questa. è bella, poi magari arriva, magari non piace. Vabbè, su questa, vabbè, questa è l'offerta, già ve l'ho detto, cioè, se acquistate la collana, il bracciale 2, luella, potete avere le orecchie di luella 1,99 euro. già ve l'ho detto io. Poi c'è la borsa, bellissima. Le pochettine, l'attrezzo per il fitness, le scarpe, gli sconticini, prodotti solidarietà, il completo letto, 75 euro, prodotti dell'Amon Technique, quelli, diciamo, styling, a partire da, no, a soli 4,51 euro, e sono vari, tipo lo spray protettivo, il gel. Poi c'è 40% sulla L'Amon Technique, su shampoo, balsami e trattamenti, 30%, un'offerta. Acquisti una maschera protezione colore, ne ricevi un'altra, più una spazzola per l'acquotolatura a soli 7,95 euro. Tutti e tre. Balsami della Bonnato, la stessa shampoo, a partire da 2,95 euro l'uno, split therapy a 3,95 euro l'uno, balsamo e spray. Poi la nuova linea della Planet Spa, maschere per i capelli o no. Sì, ecco qua. Poi la nuova linea, questa giro bianco e gardenia. a tutti a 3,50 euro. Offerta per la Bonnane, praticamente acquisto un prodotto e un altro prodotto a scelta incluso nel prezzo. Questi sono gli nuovi. Ah, offerta a rasoio e più porta a rasoio e a solito a 3,50 euro acquistando un prodotto a scelta delle linee Skinzo Soft. Quindi tra questi. Poi ve l'ho detto, ci sono i bagnoschiumati a 500 ml, a 3,49 euro l'uno, un prezzo veramente straordinario secondo me, da mezzo litro. E c'è anche quello nuovo, il Passion, esotic. Durante 1,99 euro, crema a partire da 2,50 euro, ma di 2,50 euro c'è solo quella al silicone. Gli altri sono partiti da 3,25 euro, un massimo di 6 euro. Poi abbiamo altri prodotti a partire da 2,50 euro per i piedi e sono 2,50 euro il sapone che più o meno sto prendendo e poi il resto. Prodotti a 3,50 euro, a 3,50 euro, scusa, a partire da 3,50 euro. 3,50 euro è la matita. Rossetti stick a 3,50 euro, smalti a 3,50 euro, i nuovi emolienti labbra, solo in euro e 99 euro. Qui c'è pagina profumente. Offerta 2 bagnoschi una scelta sui 9,90 che sono quelli del litro, se no se volete e potete acquistare separatamente potete acquistare a 5,50. Ci sono 2, 4, 6, 8 franze. Poi c'è un'altra offerta che me lo sto prendendo. Allora, con l'acquisto del siero per punte secche ricevere il campioncino di damage repair trattamento rigeneramento senza risciacqua beh, automaticamente incluso. Ed è il prezzo di 3,95 euro veramente un prezzo straordinario. Niente ragazzi, con questo vi saluto e alla prossima.